Una lite furibonda tra Andrea Iannone ed Elodie di Patrizzi ha scosso il mondo dello spettacolo. Secondo quanto riportato da gente, la coppia avrebbe avuto un acceso diverbio in un ristorante della capitale, lasciando tutti a bocca aperta. Non è chiaro il motivo della discussione, ma è evidente che la cantante sia rimasta molto arrabbiata con il suo compagno. Le immagini pubblicate da gente mostrano Elodie uscire dal locale seguita da Iannone, visibilmente imbarazzato e teso. I due sono stati poi fotografati mentre si dirigevano verso l'hotel in cui alloggiavano, confermando così la tensione tra di loro. Questa non è la prima volta che la coppia viene sorpresa in un momento di conflitto. Già in passato erano stati visti litigare durante un volo per Londra. Tuttavia, sembrava che la loro relazione fosse solida e seria, con progetti di famiglia e dichiarazioni d'amore pubbliche. Andrea Iannone e Elodie Di Patrizzi si sono conosciuti più di due anni fa, grazie a un'amica in comune di Letta Leotta. Da allora la loro storia d'amore è diventata sempre più seria, con progetti futuri insieme. Nonostante i rumor su un possibile matrimonio, al momento la coppia sembra non avere in programma di convolare a nozze. La loro relazione è stata seguita con interesse dai fan e dai media, ma ora la tensione tra i due sembra essere diventata di dominio pubblico. Resta da vedere se riusciranno a superare questo momento difficile e a ritrovare la ruota.